Si parte proprio dal concetto che dobbiamo stare attenti a quello che mangiamo. Molto spesso cosa ci succede? Che mangiamo le patatine davanti alla televisione, ne finiamo un sacchetto e non sappiamo neanche di averle mangiate. Molto spesso ci dimentichiamo che cosa abbiamo mangiato pochi minuti prima perché non siamo presenti nel momento in cui stiamo mangiando. Di conseguenza ci perdiamo anche il gusto di quello che mangiamo, non lo assaporiamo sufficientemente. La meditazione delle cinque patatine ci riporta a mangiarne ognuna nell'esercizio che facciamo proprio nel percorso di Mindful Eating che è un percorso che si svolge nel corso di nove incontri perché appunto richiede un tempo perché alcuni meccanismi vengano interiorizzati. Nella meditazione delle cinque patatine si mangia una patatina per volta ma prestando attenzione ai cinque sensi. Per cui la prima patatina mangiandola anche un po' con gli occhi significa prestando attenzione a come è fatta, guardandola, osservandola piuttosto che sentendo il rumore che fa mentre la sgranocchiamo, mentre la spezzettiamo e quindi dando di volta in volta un'attenzione particolare a quelli che sono i nostri sensi e di conseguenza anche a come il nostro corpo reagisce al momento in cui mangiamo la patatina. Questo fa sì che ponendo tutta questa attenzione noi ci gustiamo molto di più quello che stiamo mangiando, in questo caso le patatine, ma non abbiamo bisogno di finirne un sacchetto intero perché il nostro gusto è già pagato dopo una piccola quantità. Quindi ci godiamo il momento e non ci vengono i classici sensi di colpa che arrivano quando si sa che si è mangiato troppo, si è mangiato qualcosa che non fa bene.